buongiorno e bentornati ben ritrovati sul mio canale youtube sono tufomix siamo quest'oggi su fifa 23 sempre nelle nostre division rivals sempre con la nostra formazione che però è stata un pochino modificata e andiamo a vedere come cosa e ovviamente perché allora eccoci qua diamo subito nella formazione mi ha fatto qualche modifica sul consiglio di alcuni amici che ci stanno guardando guardano i video ci hanno detto perché non provi le hao sulla sinistra tonali e al centro davanti alla difesa e icone sulla destra e allora l'abbiamo fatto con i pochi dispermi che avevamo abbiamo comprato icone forse il più caro dei tre tonali e le hao ed ecco lì qua abbiamo messo le hao al posto di chiesa sulla sinistra a s ad icone al posto di politano di marie è rimasto in panchia politano e in questo momento in tribuna lo vediamo di là sulla destra e tonali al centro davanti la difesa che ha preso il posto diciamo che mi ha messo in panchina il resto sono rimasti invariate abbiamo messo abbiamo dato qualche qualche privilegino ai tre giocatori nuovi qualcuno già lo aveva mi sembra che icone già avesse avuto questo il suo vediamolo subito icone già avesse avuto il falco e gli abbiamo lasciato poi vediamo un po le hao aveva il catalizzatore mentre dall'altra parte tonali che abbiamo lasciato aveva già qualcosa vediamo subito cosa aveva infaticabile o forse l'ho messo non l'ho messo io l'ho trovato con infaticabile i giocatori già con diverse partite da fare quindi diciamo che la formazione in questo momento è bella che pronta abbiamo chiamato il modulo da 433 con testo da capire siamo stati a 433 ma con un mediano davanti alla difesa un cdm appunto tonale e adesso ragazzi prepariamoci a fare una sfida vediamo un po come funziona ho fatto già la prende tela così squad battles e i secoli che che le hanno fatto un gol entrambi hanno fatto un gol molto veloci tutti e due adesso vediamo divisione arrivas come siamo messi credo che siamo in divisione aperta qui c'è a prendere qualcosa andiamo da prendere i pre pacchetto vendito di tre i premi e ora qui ne abbiamo tre di premi e abbiamo maxi perché tu rinforzi premium e qua 80 punti che non me ne frega poi praticamente niente ma abbiamo non scambiabili abbiamo un gettone mi sa quattro premi quindi qui abbiamo pacchetto oro premium e pacchetto rinforzi più i crediti qua abbiamo due rinforzi oro non scambiabili e un oro premium maxi quasi quasi prendiamo questo sperando di trovare poco oppure no ragazzi prendiamo questo che avevo il digitale che poi ci facciamo una foot che con la foot magari qualche gettoncino in più qualche rinforzino in più qualche pacchetto solo in più riusciamo anche a farcelo che facciamo sono un po indeciso ragazzi datemi un consiglio che facciamo che facciamo noi siamo i live non volete disponibili devo riuscire da questo punto io devo riuscire da questo punto io qui abbiamo ma qui sono vendibili prendiamo queste ragazze che sono anche vendibili su solo due ma non ce ne frega niente dai prendiamo questi premio conferma che facciamo che facciamo spacchettiamo subito e poi andiamo a giocarsi la partita facciamo così dai un piccolo spacchettamento e poi andiamo a giocarci la partitella dai via andiamo avanti andiamo subito a spacchettare questi premi usoli così ci divertiamo un po tutti insieme principale eccoli la tanto abbiamo trasferito qualcuno è qualcuno che è andato via di quelle che già avevamo chi sarà stato chi sarà mai trasferimento di chi abbiamo venduto 750 va bene un buono così molto bene perfetto andiamo subito a vedere adesso i nostri pacchetto onzoli da aprire giorno 2 ma insomma magari chissà cosa troviamo e questo ha sette oggetti rari su 24 e questo tre rari apriamo prima questo con i tre rari vediamo che ci riserva subito subito sono anche vendibili quindi magari c'è qualcosa di buono ma cominciamo subito così che non ci dà niente se da niente ben bam 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 che non ci dà proprio un gran che e quindi vediamo che possiamo magiques ed è andato ben ba già è un doppione week invece e ronco no però abbiamo contratto allenatori con te che si fanno sempre comodo dobbiamo vendere questi due giocatori qua questo punto ora li vediamo subito con fronte presto quanto da 860 750 vediamo se 50 e non se ne ANDTAL ACHULL e l'altro sarà ancora peggio sicuramente perché tanta di overall vediamo 900 800 800 però ce ne sono 300.000 di questi qua ragazzi facciamo così per non saperne leggere e ne scrivere e via e non aprire l'altro pacchetto otteniamo tutto questo apriamo l'altro pacchetto intanto vi ricordo ragazzi e se non siete ancora iscritti al mio canale sapete che potete tranquillamente iscrivervi selezionando l'iconcina e poi se attivate la campanella sarebbe sempre avvisati ogni po volta sarà un nuovo video sul mio canale vi ricordo anche che se alla fine del video vi sarebbe piaciuto un bel like mi fa piacere un commento aiuti il canale a capire aiuta me più che altro a capire cosa vi piace cosa non vi piace datemi consigli come state facendo mi sono molto utile prova giocatori che voi vi consigliate oggi mettiamo appunto di squadra leao tonali e icone che non avevo mai provato in questa formazione e quindi vediamo un po come vanno i vostri consigli che accetterò tutti sempre volentieri e risponderò sempre ai vostri messaggi prima di cominciare a giocarci la partita anzi a spaccatare l'ultimo pacchetto che abbiamo qua di fianco noi voglio salutare i nostri amici youtube tutti i nostri youtubers che postano i loro contenuti sui loro canali e ovviamente un saluto particolare a chi porta come me fifa 23 ovvero alessandro gamer che oltre a portare questo porta anche e football e altre cose e football lo porta anche e burneo come lo porta anche stefano trari dj ma su twitch mentre l'uplo del tubo porta simulazioni di motori con volante senza volante di guida comunque trovate i loro indirizzi tutti quanti sulla mia sezione canale deve trovarli sicuramente qualcosa di buono che vi piace lo troverete sono sicuro date vederli sono 34 ragazze in gamba merito di essere visti apriamo questo pacchetto solo sette rari vediamo che ci gira la balla girano le balle basta qua ragazzi e se anche bloccato tutto qua e si è bloccato il gioco completamente mi sa che qua dobbiamo fermarci un attimo e capire che è successo ragazzi è cassato completamente il gioco senza nessun motivo adesso stiamo rientrando non so se mi ha aperto il pacchetto che stavo spacchettando da 24 con sette rari non lo so non ho capito che è successo mi è cresciuto negozio 24 mi sa che c'è l'ha aperto ma non sappiamo cosa abbiamo trovato e a vedere adesso che mi ha trovato loro 24 oggetti sempre tu abbia eh sì c'è aperto qualcosa vediamo cosa c'è aperto il ragazzo va bene allora ta amartei su alex e welbeck tutti giocatori che non ce ne può fregar di meno andiamo a vedere dall'altra parte cosa c'è abbiamo qualcuno da vendere munier vabbè l'unico un po decente però magari anche gli altri possono vabbè vediamoli tutti e poi ragazzi andiamo subito a farci la partita perché qua se grassa ancora siamo tutti rovinati vediamo questo lo vendono ammesso 750 600 ragazzi mettono delle cose obbriose bisogna cercare di venderli in bassi perché non si riesce più a vendere niente tutti hanno dei prezzi allucinanti alcuni 650 quindi niente anche questo qua ragazzi lo facciamo così perché non lo venderemo mai questo vediamo un bufèvre vediamo che lui cosa vende però qui lo mettono come mai lo mettono così alto questo un ed 950 arriva 800 900 900 900 900 mi sembra che non lo vendono a prezzi bassissimi 1400 non lo vendono presto lo mettiamo proviamo a metterlo a 1200 ragazzi e poi vediamo come funziona perché hanno visto che non lo mettono a prezzi bassissimi questo risa come vai e poi c'è nani vecchia gloria giocatore che ormai ha fatto la sua epoca ormai non è più il nani era una volta infatti lo vediamo qua a otto cinquanto visto otto cinque si dai lo mettiamo tranquillamente anche lui a 600 650 magari non siamo albostarlo a qualche amante portoghese e qua adesso vediamo verde acqua bello il campo e teniamo e adesso possiamo andare trasferito subito trasferimento che è successo che è successo subito è certo lo immaginavo che 500 comunque non voleva subito ci fa piacere ok adesso andiamo a farci la nostra prima partita con la nostra squadra come vi dicevo abbiamo cambiato ecco qua volo subito ecco a sinistra le aula vedete a destra icone e al centro davanti alla difesa tonali come il cdc mediano centrale e adesso andiamo subito a farci la partitella quindi andiamo torniamo dietro da qua andiamo in gioca andiamo in divisione rivals che siamo dove siamo esattamente siamo praticamente sempre in divisione 8 appena iniziata appena arrivati da pochissimo siamo in divisione 8 tentiamo adesso di fare qualche partita magari di vincere vediamo che ci mette di fronte il match making di fifa di electronic art avanti la formazione a posto così però direi che avanti un kaiser abbiamo mi sembra che devo andare a mettere a posto abbiamo rigorista screener che non è proprio il massimo quindi andiamo vediamo di sistemare questa cosa non si può modifica formazione si vediamo numeri statistiche giocatori tattiche personalizzate il modulo allora allora è tutto è tutto screener ragazzi ma come è possibile allora vediamo subito rigori rigori ci mettiamo possiamo mettere martinez mettiamo martinez e via per l'angolo sinistro io metterei tranquillamente tonali e angolo destro tonali punizioni 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 corta vediamo chi abbiamo con le punizioni corte barella non le cancio male evidente vici avice nemmeno e punizione lunga la facciamo battere ovviamente a tonali ok adesso ragazzi va un pochino meglio e infatti a me ne ho accorto che capitano e io metterei scrigna siamo ci scrivi al perno della difesa lo mettiamo come capitano vai adesso salvare certo questo abbiamo perché sennò non andava affatto bene ok molto bene a questo punto possiamo andarcela a giocare cerchiamo l'avversario ragazzi siamo divisione 8 tuffo mixer che vi tiene compagnia quest'oggi la maglia d'avversario la sediamo noi rossa pink e 22 andiamo avanti andiamo avanti cerchiamo di giocarcela bene ragazzi che ho tre giocatori nuovi devono subito vedere di che pasta e la squadra ma soprattutto di che basta sono fatti loro squadra della premier la squadra avversaria giochiamo noi in casa e poi scendono in campo così vediamo per la porta difesa che vede l'impiego di ternandes con quadrato lungo le corsie laterali barella e c'era milico vissari e c'è mediana tutto il peso dell'attacco sulle spalle di lautaro martinez unica punta diamo un'occhiata alla formazione ospite bono a guardia della porta in difesa gioca edermi di tao con marchinhos sedor pinzia macchua e in aria non può sbagliare da lì conclusione che non trova allo specchio decisiva la sua deviazione raffaella palla tra i piedi di lautaro riflettori puntati sulla prestazione di leao la sua straordinaria capacità in progressione la velocità ha portato al porto non ce l'ha preso spero ce l'ha preso potrebbero essere una delle chiavi tattiche dell'incontro e possono creare più di un pericolo la difesa avversaria stagli dietro è veloce veloce questo prova con questo pallone ma la deviata grande arriva cos'era fuori gioco che ha messo in pausa lo soversario va bene ha messi i ragazzi è partito dura di si divertiamo subito alla grande con i nostri giocatori subito una bella partitella subito a fare qualche azione possibile e poi la difesa subito che deve cercare di il nostro avversario ha fatto qualche modifica sicuramente è certo io volevo passare all'anfondo e ma non so di un sito tonali palla tra i piedi di lautaro può salire lungo la fascia capisce tutto e recupera un pallone a madonna l'arbitro concede il vantaggio ma porca miseria ma che culo che hanno questi via cos'era porca miseria ha fatto fallo portapalla vediamo cosa fa poten attenzione perché ragazzi la verità di un gioco amiche male tonali a forse o se la preda subito ma dai le auli destra a fare decisamente meglio invece qui non mi è piaciuto su ameni si fa vedere sedorf e madonna ma come cazzo è libero qua ma dai ma è la forma no non è rigore è caduto cosa fai cosa fai mica mica espelli e ma vai a quel paese ma vai a quel paese l'espulsione sarebbe stata un provvedimento troppo severo momento chiave del match la rispetta corta del portiere murato dall'intervento del difensore recuperano bene della trequarta avversaria prova in lancio profondo la rispetta ma il pallone è ancora buono ha tentato il tiro ma senza successo parato il portiere subito parato di rigore un passaggio sarebbe forse stata la soluzione migliore eccomi riconosce controllano molto bene il possesso del pallone vare riescono a recuperare il possesso ah ma cazzo c'è i dati che sono sbagliati quando il gioco mi si è zerato che c'è che è flippato mi ha messo i tasti all'orverso anziché tirare ragazzi sbagliavo invece di tirare porca miseria possono prendere in contropiede la difesa occhio alla ripartenza pericolosa ripartenza che viene eh non riesco a tirare devo farlo uscire la palla devo farlo uscire ma porca ragazzi ecco perché non riuscivo a giocare porca miseria c'ho la regolazione dei tasti all'orverso e infatti invece di tirare passavo ma che gli che venga un bene a quello che mi ha fatto crassare che ovviamente è electronic art infatti io qua le impostazioni sicuramente ce le ho classico va a fanculo a me serve alternato alternativo potrà avrei potuto fare il go con i chili che ho fatto davanti alla porta invece la passavo la passavo porca miseria la passavo che fa questo fa dei cambi subito ecco te Hernandez Tonani Raffaele servito Tonani non buttano via il pallone preferiscono aspettare il momento giusto adesso tiro meglio eh adesso tiro ragazzi eh cavolo per segnare queste palle vanno sfruttate meglio sbaglia e rinvio il portiere attenzione Tonani prova il tiro in porta pericolo palla persa grande parata che riflesso porca miseria ah bisogna di papilato da solo ottimo il pressing qui recupera un gran pallone nella metà campo avversaria Melikovic Savic ma dai l'errore panale di Barella eh l'altro avversario adesso è andato su no meno male eh ragazzi qua bisogna giocare un po' possiamo farci l'avversario non è temibilissimo da quando ho regolato un po' i miei tasti posso fare anche meglio dai essersi il portiere essi di brutto ah cosa fanno qua no no occhio al corner vai prendilo bravissimo bravo maniano vai vai ah miseria ok ragazzi il motivo è finito ma possiamo giocarcela bene la squadra sta reagendo bene la formazione sta andando bene se hai capito prima come fare ragazzi che avevo se capivo prima che avevo i comandi all'oversio forse sarebbe sto anche meglio l'ho capito in ritardo ragazzi quasi a fine primo tempo va bene vabbè cerchiamo di l'arbitro da inizio alla seconda metà di gara buono lo spunto qui a puntare la porta respinge ma non è finita questo risultato che non rende giustizia la mole di gioco creata da questa squadra hanno costruito diverse palle gol come conferma il dato sui tiri ma non sono riusciti finché spezzare l'equilibrio in certe occasioni sono stati troppo precipitosi in altri invece ma è scappato via porca miseria super il proprio marcatore ci prova bravo bravo mania dai forte resistere 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 portiere vai prendila non riesce a liberare su questo cross smetta la minaccia tonali palla consegnata a barella intercetta bene qui nella tre quarti avversaria azione che si fa interessante ma chi è di testa che cazzo è di testa di testa la leao può avanzare sedorf sedorf hanno questi appoggio sul rushford fuori gioco ha scelto il tocco sotto palla di poco alta il nostro messaggio non riesce a fare il pallonetto mi è mancato un pizzico di precisione ah sbagliata ho sbagliato porca miseria apprezzabile questo pallone attraversione comodamente raccolto dal portiere Lautaro Martinez legge bene qui una traiettoria interessante ecco Werner va da Cancelo va da Cancelo Lautaro Raffaele Leao Hernandez ha intercettato la traiettoria e può far ripartire la squadra Lautaro Martinez bene qui è fuori gioco chi è ma dai si era sembrato anche a me che fosse oltre l'ultimo difensore nonostante fuori cercato ah ce l'ha fatto per ricevere palla lo lascia sul posto qui buona il contrasto Jonathan mantengo nel possesso del pallone con una buona serie di passaggi madonna grande lo possono trovare il gol del vantaggio sul grande e l'occasione va sfruttato facciamo un cambio subito anche dai tifosi c'è aria di cambio va direttamente in area c'è spazio per la ripartenza e cazzo grande 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 i contropiedi sono prenditi bene questi in contropiede e si mettiamo chiese perché le aveva è stanco ovviamente ma no porca puttanazza che gol di merda che gol di merda che ho preso che gol di merdazza ragazzi dai dai forza su con coraggio vita snella vita snella vita bella si continua dai dobbiamo cercare di fare ancora un quarto d'ora per l'esperanza delle due squadre Anthony Dos Santos Rushford attenzione a Foden grande parata di Magnon recupera il pallone il portiere con un'uscita disperata e precisa sui piedi dell'attaccante coraggioso e infatti è stato premiato ha salvato la porta con un grande intervento immobile splendido intervento difensivo chiesa buona la parata è un cazzo bravo 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 il portiere siamo entrati l'ultima parte di gara si protiro la sconfitta per i padroni di casa ancora pochi minuti per rimettere le cose a posto l'importante però è non perdere la bussola evitare di andare allo sbaraglio e soprattutto per non giocare alla Carlona devono attaccare sì ma usando la testa altrimenti si rischia solo di far confusione e diventa più facile il compito della difesa pressing eseguito bene palla recuperata avanza la caccia del gol del pari non c'è più molto tempo il tipo di voglio del tiro richiesta melicović savic madonna grande il portiere qui dice di no caccia l'angolo da sfruttare al meglio se vogliono i pari ci sarà un cambio crossa nel mezzo allontana la minaccia cazzo non è fuori gioco no no passata quello ma che cazzo l'ha passata a Rashford niente ragazzi è finita malissimo il debutto con la nuova squadra con i nuovi giocatori notavano la divisione il debutto per noi perché la prima prima che siamo in ottava è partita stramale adesso ormai qua non si è capito a chi volesse darlo no passata è ormai è finita è finita è finita è finita vai tra zero mai ragazzi è andata si si va bene per cosa festeggi fai il gol anche di culo va bene Bravici ha fatto tre bei gol ma bei gol insomma tre gol sono venuti bene ho avuto fortuna a fare anche questi gol però non è che sia il mass ma non la passa mai quello non riesco prendere va bene niente ragazzi la nostra formazione nuova non ha retto il debutto in ottava divisione ma è ancora presto per dire che sia finita perché è la prima partita abbiamo ancora tantissime da fare per poter migliorare la nostra squadra per migliorare il gioco per migliorare le azioni per fare insomma per essere più bravi nella partita comunque vediamo e il corey ha preso un 7,2 quindi un buon voto le ha o 6,5 va bene tonali 6,8 vabbè non sono tutti con la sufficienza l'unico immobile che è entrato a freddo e non ha potuto incidere minimamente nella partita minimamente nella partita martinez 6,4 sì no i giocatori non hanno fatto un granché accontentiamoci della sconfitta ragazzi e procediamo alla nostra avventura in ottava divisione per il momento Tufo Mixer vi ringrazia di essere rimasti con lui quest'oggi vi lascia in compagnia della scritta like se volete mettere un like mi fa piacere un commento utilissimo sapete sempre che volete scrivere quello che volete risponderò sempre a tutti quanti e però se non siete ancora iscritti ragazzi mi raccomando iscrittevi al canale l'iscrizione è importante per farlo crescere e mi aiuta tantissimo a far crescere il canale Tufo Mixer vi ringrazia di essere stati con lui appuntamento al prossimo episodio probabilmente domani è sempre più o meno alla stessa ora ciao a tutti ragazzi a domani alla prossima grazie a tutti